Auditorium gremito di studenti per il convegno dedicato alla formazione dei giovani come fattore di crescita individuale della comunità, un obiettivo che costituisce la mission della fondazione Lello Lombardi, nata per espresso volere del senatore democristiano di cui porta il nome. A illustrare l'obiettivo dell'evento, organizzato dalla fondazione con il sostegno del comune di Sernia e della regione Molise, è stata la figlia del politico molisano Angela Lombardi. Questa iniziativa è finalizzata a motivare i giovani a impegnarsi per la propria formazione, formazione sui valori primi fra i quali la dignità della persona umana, la tutela delle fasce deboli e poi a puntare sulla formazione che rafforzi le loro competenze e la loro capacità. Vorremmo far capire ai giovani che in questo modo possono realizzare i loro sogni, la propria soddisfazione individuale ma anche far del bene per la comunità che è un obiettivo fondamentale, specie oggi c'è tanto bisogno di questo tipo di impegno da parte dei giovani e l'altro messaggio che vorremmo trasmettere è che i giovani se hanno fiducia nelle istituzioni questa iniziativa è l'inizio di un percorso che vorrà proseguire, dovranno sentirsi affiancati, le scuole, i docenti, dalle istituzioni e dalla fondazione che offre la propria disponibilità per aiutare questi giovani a intraprendere questo percorso, a motivarli, a renderli consapevoli che potranno avere grandi soddisfazioni per sé e anche grandi soddisfazioni sotto il profilo dei principi e dell'etica per tutta la comunità. Nel corso del dibattito si è parlato del ruolo della formazione per il bene comune, un valore su cui si è concentrato l'intervento di Giovanni Pirone, referente della fondazione nonché genero del senatore Lombardi. La fondazione Lello Lombardi che è stata istituita dieci anni fa persegue la finalità ispiratrice di Maritene che ha ispirato il lungo corso di vita politica di Lello Lombardi. Lello Lombardi ha sempre creduto nei giochi ma ha sempre creduto in una politica per il bene comune quindi ispirato da questi principi ha promosso iniziative nazionali e anche amava moltissimo il Molise per dare una chance di sviluppo al territorio e quindi la politica industriale dell'agricoltura è stata fatta da lui assessore regionale alla programmazione. L'università unico firmatario di un disegno di legge che ha dato una visione innovativa all'università del Molise quindi un'università non solo per diploma di formazione individuale ma che mira il bene comune attraverso una crescita del territorio strutturata in finalizzazioni per esempio scienza delle preparazioni alimentari o scienza dell'amministrazione quindi sempre con il tema del bene comune. Il terzo elemento è stato anche la formazione professionale. Anche il presidente della regione Molise Francesco Roberti ha sottolineato la rilevanza della preparazione delle nuove generazioni in tutti gli ambiti ma in particolare in quello politico. Innanzitutto oggi ricordiamo il senatore Lombardi che ha fatto tanto per il Molise con la sua attività politica e quindi il primo passo è quello di trasmettere ai giovani la voglia di far politica perché così come sempre è stato detto la politica è la forma più alta di carità cristiana se viene fatto nel segno e nell'interesse dei cittadini e del territorio dove si vive quindi deve nascere loro un senso civico, una coscienza politica e una voglia di partecipazione nelle scelte future di questa regione.